È di pochi giorni fa l'approvazione in Consiglio Comunale ad Arco del bilancio di previsione e le opposizioni non hanno tardato a lamentare l'immobilismo della giunta guidata dal sindaco Alessandro Betta. Per voce dell'On. Ottobre sentiamone le motivazioni. Pochi giorni fa è stato approvato in Consiglio Comunale il bilancio annuale. Come opposizioni cosa ne pensate dei numeri che lo contengono? Ma è un bilancio di ordinaria amministrazione della macchina pubblica del comune di Arco. È un bilancio che non dice un granché. Le opere più importanti sono state tracciate già dalle precedenti amministrazioni comunali, dal sindaco Mattei in poi. Da punto di vista politico invece è un bilancio che non dice assolutamente nulla purtroppo. Un bilancio a me disastroso. Tre anni l'amministrazione Betta ha un immobilismo più totale. tematiche importantissime come la sanità privata per esempio o la sanità pubblica dal punto nascita di Arco, dalla Villa San Pietro dove la provincia ha di fatto tolto i posti di accreditamento per i trentini, per i pazienti quindi hanno messo in difficoltà una struttura che hanno subito licenziamenti, quindi famiglia a casa o da Eremon che in questi giorni ancora c'è una situazione di crisi proprio da parte della provincia, proprio da parte dell'assessore Zeni dove è dello stesso partito di Betta e Betta evidentemente non ha il coraggio o la forza o la volontà di opporsi a questo sistema che ci sta demolendo Arco. Noi sappiamo che abbiamo una tradizione sanità turistica e tutte le strutture sono veramente in difficoltà. Bilancio che non dice nulla anche perché puntualmente la provincia di Trento boccia i contributi, non ha dato contributi per la situazione di Vilelena, quindi tutti i temi dei grandi volumi da Vilelena, dal Quisi Sana che lì in faticienza è stato veramente degadante, o alle palme, non c'è una minima regia di verificare quella possibilità di questi grandi volumi. Betta fa solo annunci, è detto che andava dal Presidente Rossi per il Sanaclero, ma è inutile che parliamo del Sanaclero, nel Sanaclero ormai le cose sono andate, è meglio essere stato così perché evidentemente la provincia l'ha messo in permuta su lavori pubblici e quindi non c'è niente da fare, ormai i buoi sono scappati, questa grande visione di Arco non c'è, tre anni in tutti gli immobili, abbiamo anche l'AMSA che grazie al turismo, non grazie agli amministratori locali, ha chiuso un utile importante, oltre mezzo milione di euro, Betta non è anche in grado di dire prendiamo 50-100 mila euro dell'utile di bilancio e lo mettiamo nei capitoli comunali per dare una mano alle associazioni, al sociale, eccetera, eccetera. Tutte cose che mi dicono in aula che non si possono fare, annunciano decreti in Madia, non sanno neanche cos'è il decreto Madia, evidentemente, perché non lo sanno neanche leggere, perché anche il vice sindaco Bresiani più volte in aula l'ho trovato molto impreparato su questo tema, evidentemente hanno questa grande, nei miei confronti, io che sono una persona esperta, perché tra il Consiglio Provinciale e il Parlamento ho fatto esperienza, si arrogano il diritto di dire a me cosa posso dire e cosa non posso dire. Questa è una cosa che per Arco non funziona così, non va bene, Arco ha perso di potere, non ha fatto quelle, nella relazione di bilancio bisogna anche dire le cose che si fanno, ma non ha fatto nulla. Se poi pensiamo anche allo stato di disagio che ha messo il Consiglio Comunale, dove il Presidente, anche in primis, Tamburini, non ha il coraggio di istituire la commissione di inchiesta per l'Agentina, che è una questione per noi consiglieri comunali di vitale importanza, dove noi possiamo verificare qual è successo di tutta questa grande inchiesta. A noi non interessa il lavoro della magistratura, non è importante che sicuramente vengono assolti tutti quanti, ma c'è un fatto politico che va chiarito e non permettono ai consiglieri comunali, e questa è la faccia della trasparenza del Partito Democratico, non permettono di far luce e chiarezza sui punti che ha messo in difficoltà Arco a livello nazionale. Quindi è evidente che queste mancate presi posizioni, questa mancanza di coraggio, ci ha portato Arco a livelli veramente indietro che Arco non merita.